3,2,1,go buongiorno ragazzi ragazze ci siamo tornati qui con noi questo video è stato un bellissimo video, c'è un video trucchetti perché Giulia ha avuto la brillante idea di farmi un trucchetto allora il gioco consiste di non far cadere la bottiglia e prendere la banconota senza far cadere la bottiglia non si può né toccare, né soffiare, né fare niente e poi ovviamente tutto questo c'è un trucco se tu vincerai prenderai questa mancora di 10 euro e invece se perderai un bello spruzzo di questa popola è importante, è importante, è importante Giuliana questa no, non mi piace iniziamo, iniziamo, dai allora, qua ah non puoi fare un cerchio sono andato a sbagliarlo dai, ma va bene, scusa no non l'ho fatta cadere io no, certo vai ma prova altre cose fermo un bis ah ah hai perso come hai perso? perché sono 4 tentativi mi sono sbagliata dai dirlo quindi questi 10 euro non sono i miei sono i miei dai e ora andranno con me a prendere qualcosa no Giulia dai no no Giulia no Giulia no Giulia Giulia no Giulia non ce la faccio non mi piace ti prego ah che uno dai 3 2 1 di nuovo di nuovo ancora ancora no non era una sola spruzzata non era una sola spruzzata mi ha riempito tutta dai che schifo apri 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 basta saranno 3 spruzzi quindi devi aprire basta e ti ho sentito che sono 3 che schifo bravo no vendetta un bacio raga ci vediamo al prossimo short e al prossimo indovinello